Oggi andremo a realizzare l'angelo. Come sempre ci serviranno dei fogli colorati, dei colori, una matita, un paio di forbici, una colla e un rotolino di carta igienica. Dopo aver ricoperto il rotolo di carta igienica, io per fare il vestito dell'angelo ho scelto il rosso, ritaglia dal foglio rosa un cerchietto per fare il viso e dal foglio giallo i capelli come nell'esempio sulla foto. Incolla il viso nella parte alta e copri il rotolino con i capelli facendo attenzione a farli aderire bene. Ricava da una striscia di cartoncino giallo scuro una piccola aureola che andrai ad applicare sopra la testa dell'angelo. Ritaglia dal foglio azzurro due ali e uniscile insieme. Attacca le ali al tuo angioletto. Non ti resta che completare il tuo angelo con uno spartito sul quale potrai scrivere gloria. Ti aspetto la prossima settimana per completare insieme il nostro presepe. Buon lavoro!